Siamo a maggio 2021, io mi occupo di maggio 2021, l'elezione del Quirinale è a febbraio 2022, quindi non faccio il veggente, mi occupo delle riaperture in calendario da domani. Però da questo dipenderà la durata? Ne parleremo a febbraio 2022. Ci conferma lunedì l'incontro con Meloni e Tagliani per le amministrative? Sì. Tutti i nomi sono già sul tavolo? Ne parleremo lunedì. È preoccupato di questa ascesa della Meloni? No, centrodestra è maggioranza assoluta nel paese. Preoccupato dovrebbe essere Letta che fra un po' scompare. Se ci dovesse essere il sorpasso di Fratelli d'Italia nei sondaggi? Se sbarcano gli alieni? Chiediamo a Flaiano. Ci porremo il problema quando sbarcheranno gli alieni, che penso non sbarcheranno da qui a breve. Io commento i fatti, in questo momento stanno sbarcando altri 407 immigrati irregolari in Sicilia. E non ce lo possiamo permettere. Io commento dei numeri che sono assolutamente inaccettabili per l'Italia, che ha bisogno di turisti che pagano e non di turisti a pagamento nostro. Quindi spero di commentare dei fatti. Perché il fatto di questa mattina è che stanno sbarcando altri 407 immigrati da una nave tedesca rifiutati da Malta. Spiegatemi perché una nave tedesca che doveva andare a Malta sta sbarcando in Sicilia. Non è normale.